Palla, palla, puoi parlare Come Renato e gli altri stanno tentando di precisionare una porta 5 cm di più, chi di meno sta al centro? E' al centro? Lo squadro, l'avete portato lo squadro? Renato conta i passi, Renato conta i passi per piacere No, quelli di Bigli e c'è passi migliori Un applauso! Un applauso! Sono riusciti a montare una porta E' pronta la pasta? E' pronta la pasta, ma mangiamo I rigatoni noi